Non hai urtato lo spigolo. La tua pelle non è troppo delicata. Non è stata solo distrazione e non è mai l'ultima volta. La violenza fisica non deve mai far parte di una relazione. I rapporti oppressivi e violenti non sono segno di affetto o di amore e vanno denunciati. Sempre. Io lotto, l'iniziativa promossa dal Comune di Napoli e finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza, nata con l'intento di sensibilizzare le donne vittime di violenza a denunciare i loro oppressori. I centri di ascolto possono darti un aiuto concreto, anche solo con un consiglio. Fatti ascoltare. Chiama il 1522. Grazie a tutti.